il buongiorno liparino buongiorno professore mancuso come sta papà? buongiorno professoressa mancuso ma come sta papà? buongiorno liparino professore mancuso papà sta bene pedino una cosa veloce che ho una partita di calcetto torneo scusami non mi ricordo più le tre domande che ti devo fare in questa università le cose non cambieranno mai se continueranno ad entrare i parenti, i parenti, i parenti ci ha ragione lo zio Io raccomandarti lì oggi, e io per passare un esame mi devo conciare così. Qui dobbiamo pagare tutti. Non è il figlio del rettore. Tutti sanno come ottengo successi, ed è grazie a te. Non vuoi più essere il figlio del rettore, giusto? Perfetto, allora quella è la porta. Qua tu friggerai arancini. Roberto, da quando c'è TripAdvisor, l'olio va cambiato. Se assistesse un'app che dà la possibilità agli studenti di valutare l'operato e i professori, questi non potrebbero più fare ciò che vogliono. Capite che voglio dire? Io vorrei sapere chi è questo figlio di bottana che si è inventato a questa... Tuo figlio. Mio figlio. Scrivi 30 e cancella la tua città. Grazie, professore. Dal latino gratis. Mi raccomando, collezionate pallini. Il lavoro cancella i vizi generati dall'ozio. Bella questa. Ma di chi è di Seneca? No, di Seneca. Il ragazzo le consegne. La vedo in filosofia.